Da binario unico a doppio binario, la linea ferrata da Pistoia a Lucca è il titolo della mostra promossa dal dopolavoro ferroviario di Pistoia che sarà inaugurata giovedì 12 settembre nei locali del dopolavoro ferroviario di Pistoia in piazza Dante Alighieri e che ripercorre gli imponenti lavori in via di conclusione per il raddoppio del tratto ferroviario tra Pistoia e Monte Catini Terme. Sì, noi in collaborazione in questo caso con Rete Ferroviaria abbiamo pensato che era importante far vedere a città, ai nostri cittadini ma anche non solo Pistoia, anche comuni interessati, Seravalle, i lavori che sono stati fatti per il raddoppio della Pistoia a Monte Catini quindi abbiamo collezionato dei poster che saranno esposti il giorno 12 fino al 29 di questo mese e poi abbiamo fatto anche un libretto dove si spiegano i lavori fatti ed è una cosa molto carina invito tutti ad essere presenti perché la mostra è gratuita e serve a dare un segnale di questo grosso investimento che è il più grosso investimento pubblico nel comune e nella provincia di Pistoia. A corredo della mostra anche un volume di approfondimento curato sempre dal DLF con il progetto grafico di Archimedia di Stefano Poggiallini. Abbiamo preso spunto da una cartografia che era presente negli uffici delle ferrovie cartografia che loro tengono per avere i riferimenti dei vari lavori con le chilometriche.